Buon salvone appassionati di Football Manager, oggi parliamo di meta di FM24, ma cosa vuol dire meta? Beh, possiamo tradurlo come la migliore strategia possibile in base al contesto in cui ci troviamo, quindi vada a sé che non esista un'unica strategia vincente su FM, ma cambia il contesto, cambiano le scelte che dovremo fare. E queste scelte chiaramente possono influire tanto su ruoli, istruzioni di squadra, disegno tattico, mentalità. Ma cosa vuol dire contesto? Beh, per esempio potrebbe essere l'arco di 90 minuti, sto vincendo, come fare a non farmi rimontare visto che ho un vantaggio risicato? Oppure sto perdendo, come fare a rimontare lo svantaggio? Un contesto però può essere anche semplicemente, voglio giocare con la Fiorentina, come trarre il meglio dei giocatori che ho? Ma è chiaro che qui dobbiamo prima rispondere a un'altra domanda, voglio giocare a 3 o a 4? Voglio sfruttare i flussi dal basso verso l'alto laterali o centrali? Perché questo per esempio incide sull'ampiezza. Questo per sottolineare che non esiste un unico setting per il meta, come invece sembrerebbe da questi siti dove vai a caricare le tattiche e ti vanno a dare un punteggio. Fateci caso, le tattiche che stanno in alto spesso e volentieri si assomigliano tanto, perché uno vede che quella tattica ha funzionato particolarmente bene, prova a cambiare uno o due istruzioni, andando anche a provare a indovinare senza sapere per forza perché dovrebbe funzionare, ma tu ti stai massimizzando un punteggio su un determinato save ideale. Quello è un save dove le squadre non sono le stesse che tu hai quando giochi, Atalanta, Juventus e Comunia Bella. Poi ci sono anche software di terze parti che spesso vengono utilizzati per andare a controllare certi parametri, come per esempio tenere fisse le condizioni fisiche dei giocatori. Va bene, questo può avere senso per confrontare chiaramente le tattiche, per in qualche modo limitare l'effetto casuale di certi eventi, però non è quello che poi accadrà giustamente quando vai a giocare. E infatti spesso e volentieri capisci che una tattica è scaricata da Inter perché 9 volte su 10 quella tattica ha il contrasto di squadra più sul singolo, che però causa un sacco di problemi a livello disciplinare. Se vai a giocare te ne rendi conto, se invece vai a simulare no, perché giustamente magari non vai neanche a controllare quelle ammunizioni e espulsioni che ha causato quella tattica. Ma comunque andremo a valutare anche le tattiche, anzi una tattica che è stata utilizzata nel mondiale di Football Manager, che assomiglia molto a quelle tattiche che appunto si possono scaricare da internet, e l'andremo anche a confrontare con la migliore tattica del sottoscritto e a vedere insomma chi ne esce vincitore. Per quanto riguarda il mondiale vi ricordo che potete andare ancora sul sito della FIFA, vi lascio anche il link in descrizione. Basterà chiaramente andare a prendere il nome di questi vari utenti, cliccarci appunto in questa situazione dove si vedono appunto i gruppi, perché questo format del mondiale era prima te contro il PC per tre stagioni, poi dopo chi si qualificava per ognuno di questi gruppi andava poi a fare le semifinali, come vedete appunto ci sono tutti i risultati. Comunque se andate su Stage Group e poi andate su un nome a caso e poi scendete, vedete che a parte vedersi il VOD che dura 11 ore, sono veramente tante, però se uno vuole appunto capire anche come hanno ragionato queste persone, beh è interessante perché alcuni hanno anche utilizzato strategie diverse per le varie situazioni che avvenivano durante l'arco dei 90 minuti, ve lo consiglio assolutamente se avete un po' di tempo. Però scendendo potete fare diciamo download di questi save e così potete arrivare anche alle tattiche che sono state utilizzate, ma ripeto andremo anche a valutare la miracle del ragazzo che ha vinto appunto questa manifestazione. Ma banda le ciance, vediamo qui di cosa è meta su FM24, ricordando che chiaramente è un mix di cose, istruzioni, ruoli, disegni tattici e mentalità, tutto insieme chiaramente fa il meta. Come abbiamo già spiegato in passato FM è un gioco di strategia, quindi sì abbiamo questo terreno di gioco dove posizioniamo i giocatori per fare 4x3, 4x4 e compagnia bella, ma dobbiamo idealmente invece suddividerlo in tante piccole caselline e non sono tutte ugualmente importanti, quindi non dobbiamo giocare a rendere tutto verde, dobbiamo però prenderci subito quelle più critiche, che cambiano anche di edizione in edizione. Ecco perché per esempio in FM24 i 4x4 spopolavano, in FM24 invece no. Anche perché parliamoci chiaro, se non cambiassero neanche i pesi, noi giocheremmo anno dopo anno dopo anno sempre con le stesse medesime tattiche. Quindi in FM24 abbiamo due zone delicate, la prima è quella mediana, cioè quella apposta tra la difesa e il centrocampo. Come si fa qui a prendere una data porzione di campo in FM? Beh abbiamo due possibilità, la prima è andare subito a mettere qualcuno lì a presidio, come abbiamo fatto per esempio con 4x3 di spalletti, c'è già infatti in mediana un centrocampista difensivo. Ma la seconda possibilità potrebbe essere quella di farcelo arrivare un giocatore direttamente in quella zona, e qui però dobbiamo combinare sia il ruolo che andremo a scegliere, perché ogni ruolo ha un suo moveset, ci fa capire come si muove in campo, due, la differenza tra mentalità di squadra e mentalità del singolo calciatore, che ci fa capire se i giocatori vanno più in avanti o più indietro, perché qui abbiamo sì un 4x3. Ma ovviamente quando andremo ad attaccare non resterà questo il disegno, perché ogni giocatore ha una mentalità differente rispetto a quella di squadra e quindi va più su o più giù. Quindi per esempio qui abbiamo per Arthur una mentalità positiva, mentre la mentalità della nostra squadra è offensiva, il che vuol dire che mentre la squadra attacca lui resterà un po' più dietro. Il suo discorso anche per Duncan, anche Duncan ha una mentalità positiva. Quindi la differenza di distanza tra questi due giocatori resterà sempre la stessa, ma se io volessi far scendere Duncan fino all'altità di Arthur, come dovrei fare? Dovrei abbassare la mentalità di Duncan. Quindi andiamo su modifica le istruzioni del giocatore, andiamo a cambiare il compito, lo mettiamo di difesa, e vedete come la sua mentalità scende equilibrata. Quindi devo dire che il signor Duncan, avendo adesso una mentalità a due tacche più basse dell'offensiva, riuscirà ad arrivare alla stessa attesa di Arthur. Tornando però a meta, la soluzione che paga meglio è sicuramente quella di presidiare direttamente la zona mediana, quindi lasciamo perdere questo movimento che abbiamo però capito perché ci servirà dopo, e quindi mettiamo o un giocampese difensivo o due. Entrambe le soluzioni sono meta, poi chiaramente dipenderà da come andrete a gestire tutto il resto. L'altra zona delicata su FM in D4 è la tre quarti, ma questa ci sarebbe però per attaccare, non per difenderci. Ma prima di andare avanti, qui bisogna spiegare che idealmente un terreno di gioco, ma questo vale anche nel calcio, va suddiviso in cinque canali verticali, due laterali, due del metodo spazio e uno centrale. Quindi più si va a conquistare queste zone, o a presidiarle sin dall'inizio, più si ha facilità anche in FM a vincere. E in questo caso possiamo notare che abbiamo già due giocatori a presidio, ovvero i due attaccanti esterno. Ma abbiamo anche altri giocatori che ci arriveranno in questione dei tre quarti. Come? Beh, il CC di attacco per esempio ha una mentalità molto offensiva, il che vuol dire che ha un'attacca in più rispetto alla normale mentalità di squadra. Quindi mentre gli altri si muovono per attaccare, questo CC va talmente più in avanti da diventare di fatto un tre quartista aggiunto. E può arrivare qui, qui o qui. Come è possibile? Beh, abbiamo aggiunto l'istruzione del muoversi negli spazi. Quindi spingiamo il giocatore a non andare per forza dritto per dritto, ma andarsi a prendere la zona che troverà libera. Quindi a seconda di come si muove la palla, ovviamente, lui potrebbe trovarsi per esempio anche qua. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. L'attaccante esterno, ovviamente, ha il taglia verso il centro. Quindi è un giocatore che comunque anche naturalmente tende un po' ad accentrarsi. Quindi si troverà per esempio qua. Mentre si attacca a sinistra, il tersino codificante riuscirà ad arrivare qui. Perché? Perché sul tersino codificante, attenzione, abbiamo una mentalità molto offensiva. Quindi anche lui si spinge più del normale movimento della squadra. E quindi capite perché questa tattica si va a prendere idealmente i cinque canali verticali. La stessa cosa la possiamo fare anche per esempio col Murigno. Il Murigno ha già tre giocatori a presidio. Ma lo suo discorso avviene anche con i tersini. Così come lo Spalletti hanno una mentalità più alta rispetto alla normale mentalità della squadra. Quindi abbiamo un'altra volta i soliti cinque canali verticali. Anche per quanto riguarda però la tre quarti, il gioco premia già la presenza sin dall'inizio di almeno due giocatori in questa zona di campo. E poi magari se possibile farne arrivare anche altri attraverso magari il giochino delle mentalità. Ma questo vi spiega anche perché avete fatto più fatica su FM24 con certe tattiche che magari non prevedevano già la presenza in questa zona di campo dei vari ruoli. Per quanto riguarda invece la fluidità di squadra, un dato che viene riportato qui nell'angolo in basso a sinistra di questo treno di gioco, ricordiamo che FM24 premia soprattutto la strutturata e la flessibile. E questo dato però viene fuori in maniera automatica in base a quelli che sono gli atteggiamenti in supporto dei ruoli che avete utilizzato nella vostra tattica. Quindi più saranno come numero questi ruoli in atteggiamento di supporto, più si va verso una maggiore fluidità. Mentre meno saranno questi atteggiamenti di supporto, ergo più saranno quelli con atteggiamento di difesa o di attacco, più si va verso una fluidità strutturata. Tra l'altro questo numero di atteggiamenti in supporto non è fisso, ma dipende anche dalla mentalità che avete settato per la vostra tattica. Passando invece ai migliori disegni tattici per FM24, non si può non menzionare il 4-2-4, ma in questa particolare configurazione dove abbiamo un attaccante in atteggiamento in supporto e uno invece con atteggiamento di attacco. E' chiaro che al di là poi di quelli che sono i moveset specifici di questi ruoli, quello in supporto potrebbe aiutare maggiormente in tre quarti rispetto all'altra punta. Attenzione però, perché la mentalità di squadra è equilibrata, quindi vuol dire che la mentalità sul piccino di supporto sarà offensiva, ma attenzione, magari potrebbe essere una sorpresa per qualcuno, anche la mentalità della seconda punta in attacco è offensiva. Quindi sono praticamente la stessa mentalità? Ovviamente no, perché questo compito di supporto o di attacco va comunque a regolare questa mentalità offensiva sul singolo calcio. Dore, la va a spingere un po' di più con quello d'attacco, ma evidentemente non basta questa spinta per andare a finire su quella molto offensiva. Ricordiamoci sempre che è regolata anche dalla mentalità di squadra, che era equilibrata. Se avessi omesso una mentalità differente, magari questo scaglione sarebbe stato raggiunto e ci saremmo trovati davanti una molto offensiva utilizzando questo compito di attacco. Quindi in definitiva guardiamo questo compito come una sorta di spinta verso l'alto o verso il basso ulteriore. Quindi in questo momento la seconda punta di attacco ha una mentalità offensiva plus. Il problema è che le mentalità sono sette, ma in realtà questo dato nominale nasconde dei dati numerici. Le mentalità vanno dalla molto difensiva alla molto offensiva, ma i numeri che ci stanno sotto vanno da 1 a 20. Ora 20 diviso 7 non fa un numero intero, quindi sarà un numero con la virgola? No, probabilmente avremo alcuni di questi scaglioni che si muoveranno di 3 punti, altri per esempio di 2. Non c'è dato sapere esattamente quanto vale la molto difensiva. Magari va da 1 a 2, magari invece la difensiva va da 3 a 5, ma questa cosa qua non deve stupirvi perché vale esattamente anche per il piede del giocatore. Prendiamo ad esempio la scheda di Niccolò Zaniolo. In questo caso sfrutteremo l'editoringame per modificare il valore del piede meno nobile, ovvero il piede destro. Ora, gli scaglioni sono 6, sono molto debole, debole, sufficiente, abbastanza forte, forte e molto forte. Ma ancora una volta, 20 diviso 6 non fa un numero intero e con la virgola assolutamente no. I primi due scaglioni infatti saranno più grossi rispetto ai successivi e ve lo vado quindi a dimostrare. Innanzitutto andiamo su Modifica Attributi, andiamo sulla colorina Ruoli e andiamo a mettere al piede destro il valore di 1. Vedete che ora cambierà da sufficiente a molto debole. Andiamo ancora una volta a modificare questo dato, questa volta ci andiamo a mettere il valore di 4 e ancora una volta risulterà molto debole. Andiamo invece a mettere 5, vi faccio vedere che scatta lo scaglione successivo, ovvero il valore debole. Avete visto che cambia anche poi il colorino grazie alla VinSkin. Andiamo a mettere però adesso il valore di 8 e vedete che ancora una volta resta il valore debole. Ora, 8 vuol dire che ancora una volta il secondo scaglione valeva 4. Adesso però le cose cambieranno. Andiamo a mettere a 9, così vi faccio vedere che scatta lo scaglione poi successivo, ovvero quello sufficiente. Ecco qua. Ora, a regola, se io adesso vado a mettere il valore di 11, resterò ancora sufficiente. Ma sono passati 3 dati. 9, 10 e 11. A 12, se fosse come gli scaglioni precedenti, dovrebbe essere sufficiente. E invece non lo è, perché se vado a mettere adesso invece il valore di 12 al piede destro, mi passa già allo scaglione successivo, ovvero abbastanza forte. Come vedete, appunto, una roba analoga, ce l'abbiamo sicuramente anche con le mentalità. Quindi questo per dirvi cosa? Che questi due giocatori hanno lo stesso la mentalità offensiva, ma la mentalità offensiva della seconda punti in attacco è un'offensiva più offensiva. Davvero molto efficace. Anche il 4, 2, 3, 1 si può fare in diversi modi, ma qui vi presenterò il murigno. Così possiamo anche discutere dell'ampiezza. In questo caso io volevo sfruttare tanto i flussi laterali, perché ho un terzino fluttificante con atteggiamento in attacco, che è stata la mentalità offensiva di squadra, va a settare la molto offensiva anche sul singolo, quindi particolarmente aggressivo. Ma avevo anche un COC, che non solo aveva mentalità molto offensiva, ma aveva anche attivo il muoversi negli spazi. E in questo modo potevo quindi andarlo a utilizzare anche nei canali dei mezzi spazi, perché si muoveva anche in diagonale. Non volevo limitarlo, ed è per questo quindi che mi sono fermato su abbastanza larga. Se avessi messo abbastanza stretta, non avrei migliorato il valore della tattica, perché avrei semplicemente limitato il COC, ma avrebbe avuto senso metterla abbastanza stretta mettendo anche la sovrapposizione, perché in questo modo avrei ulteriormente alzato la mentalità sul terzino fluttificante. E ve lo dimostro. Se io adesso vado qui, leggerò sempre mentalità molto offensiva, perché non si può andare oltre. Ma, come vi ho detto in precedenza, magari da 18 è passato a 20, no? Sembra per discorso di numeretti sotto la mentalità. Ora, non ve lo posso far vedere qua, perché era già molto offensiva, ma se io metto magari qui un'altra volta il murigno, dove già abbiamo la sovrapposizione attiva, vedete adesso che se è basso a molto difensiva, adesso si può notare, perché sul sinistro abbiamo una mentalità positiva, mentre sul destro, che non ci sta invece, la sovrapposizione, c'è una mentalità equilibrata. Questo per dimostrarvi, come al solito, che ripeto, quando si vanno a utilizzare certe istruzioni bisogna capire cosa fanno, non si può parlare di meta a prescindere. E soprattutto, diciamo, avete capito, perché vi dicevo che l'ampiezza non può essere, diciamo, univoca. Il meta cambia in base a come andate a settare ovviamente le istruzioni. Ovviamente la sovrapposizione, però, oltre ad alzare la mentalità dell'esterno basso, ovviamente va anche ad abbassare quella dell'esterno alto. Infatti ora, l'Ukman mi risulterà offensivo, mentre l'attaccato esterno di destra mi diventa molto offensivo, perché, ripeto, ovviamente bisogna tenere conto anche di questo cambiamento e ribilanciare poi ulteriormente qualcosina. Davvero molto efficace anche il 4-3-3 in almeno due varianti. Abbiamo quella classica col centrocampo a B, cioè un mediano e due centrocampisti. Volevo si potrebbero mettere anche entrambi i centrocampisti con atteggiamenti d'attacco, però, attenzione, poi bisogna ribilanciare un pochino le istruzioni, altrimenti si rischia di spaccare un po' a metà. Abbiamo a che fare con la variante numero 2 che è persino, diciamo, quasi oltre il meta, qua si parla quasi di sfasciarlo, perché abbiamo a che fare con un centrocampo mediano che fa letteralmente quello che vuole. Su F-24, ma in questo caso specifico si avvantaggia della zona centrale che viene svuotata letteralmente grazie alle doppie coppie laterali che funzionano benissimo, poi ne parliamo. Abbiamo quindi questi esterni alti che vanno ad attirare su di sé l'attenzione dei difensori e quindi lasciano libero sfogo al secondo mediano che potrebbe tanto andare su un mezzo spazio opposto, tanto sul suo di riferimento, tanto nella zona centrale, questo perché, come al solito, in questa tattica ho attivato il muovere di spazi che garantisce appunto questo spostarsi in continuazione lì dove la zona chiaramente poi è più efficace, cioè quella libera chiaramente non occupata da nessun altro. Questa combinazione funziona benissimo su questo FM perché abbiamo la spinta che viene favorita dall'engine del terzino ma soprattutto quando voi mettete qualcuno davanti a proteggerlo e in questo caso l'atteggiamento in supporto fa in modo che l'attaccante non si butti subito in avanti e quindi crea un filtro di protezione diciamo che permette al terzino di fare appunto quello che vuole. Ovviamente tanto i terzini tanto i futificanti quest'anno sono veramente i ruoli migliori per quanto riguarda appunto l'esterno basso. Per quanto riguarda invece i difensori centrali restano sicuramente super efficaci i difensori che impostano. Prima dell'ultima patch anche il libero che avanzava era sicuramente un bel ruolo dopo l'ultima patch purtroppo diciamo che è un po' un problema diciamo gestirlo visto che si sposta veramente troppo in avanti anche se gli si mette il terreno in posizione resta un giocatore che ripeto è un po' troppo anarchico e quindi si può creare delle trame pericose ma può anche farti beccare un gol in contropiede quindi non è sicuramente un ruolo meta. Per quanto riguarda i giocatori in mediana come al solito c'è un campista difensivo e secondo mediano sono sicuramente i migliori in assoluto quando dico migliori in assoluto intendo meta e poi no che non si possono utilizzare anche altre cose però parliamo di meta diciamo cos'è meta. Per quanto riguarda la tre quarti l'attaccata esterno tutta la vita anche l'all'invertita potrebbe in alcuni casi ripeto aiutare ma l'attaccata esterno ha sicuramente un vantaggio notevole. Al centro potrebbe essere utile tanto un COC tanto un ADS sono sicuramente i ruoli migliori e possiamo definire appunto meta. Per quanto riguarda invece l'attaccante il centri avanti come al solito ha sempre il suo perché mentre altri ruoli che possono essere utili sono come al solito l'uomo d'aria devo dire che quest'anno si possono utilizzare anche i fulcri cosa che non aveva mai reso veramente strabene negli anni passati e persino l'attaccante che pressa è la sua punta però in questi casi più che come uniche punte magari in coppia quindi si mette uno che magari attacca l'altro che va in supporto e quello che va in supporto potrebbe essere una seconda punta o un'attaccante che pressa queste sono le combinazioni ripeto migliori giusto per competenza facciamo anche la zona centrale altrimenti ce la siamo persa anche se si era già intuito c'è un campista centrale sia in attaccato sia in attacco sia in attacco e anche la mezzala in certi contesti può essere davvero meta sia in supporto sia in attacco passando invece alle mentalità ce ne sono tre che possiamo considerare meta quest'anno e sono l'equilibrata la positiva e l'offensiva non sono tutte e tre ovviamente ugualmente interscambiabili sceglierete una o l'altra in base a come vorrete poi combinarle con determinate istruzioni di squadra con il disegno tattico che vorrete andare a creare che andrà a spingere magari più lateralmente più centralmente quindi anche una gestione di flussi che poi è legata all'ampiezza come andremo anche a vedere ricordiamo che la mentalità ovviamente fa tante cose per esempio ci può precludere la scelta di certi parametri come andremo a vedere ma può anche settare come abbiamo visto anche in precedenza la mentalità sul singolo giocatore e ovviamente incide anche sulle posizioni medie che questi giocatori occuperanno su questo scacchiere ovvero sul campo di gioco andiamo in fase di possesso perché qui scopriamo una combinazione trasversale che funziona su tutte e tre queste mentalità ovvero questa particolare combinazione tra lo stile dei passaggi più corto e il ritmo di gioco più alto ma in realtà va bene anche il leggermente più alto quindi una tacca in avanti sui passaggi e tre tacche o quattro tacche totali per cosa riguarda il ritmo infatti qui adesso abbiamo con mentalità equilibrata uno stile più corto di passaggi ma abbiamo anche un ritmo più alto vedete che io adesso mi sposto sulla positiva e ancora avrò più corto più alto mi sposto anche sull'offensiva e avremo ancora un più corto più alto quindi anche qua potete fare anche da voi questo controllo per cosa riguarda la barretta in tre quarti ma funziona esattamente nello stesso modo cioè non cambia il bilanciamento è una cosa scontata beh certamente no facciamo un altro esperimento infatti ritorniamo sempre con la barretta massima sul ritmo guardate adesso come cambierà lo stile dei passaggi andando su un'altra mentalità metto la molto offensiva e ora passa poco più corto quindi è cambiato il bilanciamento ma non finisce qua guardate come cambierà il ritmo senza toccarlo ma andate a toccare solamente i passaggi quando sono in mentalità molto offensiva metto un'attacca davanti sullo stile dei passaggi e mi diventa ancora più alto ma se torno indietro era più alto quindi vedete come questi bilanciamenti possono cambiare tantissimo nel momento in cui vai a toccare la mentalità perché la mentalità è una sorta di preset che va ad agire su tanti parametri diciamo a cascata guardate per esempio cosa accade con l'ampiezza e la mentalità che si va a settare se io vado sull'ampiezza inequilibrata ho stretta abbastanza stretta standard poi ho abbastanza larga e quindi larga non è la stessa cosa che ho invece mettendola positiva vedete come io passo da larga abbastanza larga ancora abbastanza larga manca l'attacchetta dello standard lo di che vado subito su abbastanza stretta e poi su stretta in sostanza noi stiamo decidendo come andare a occupare il campo concentrati più nella zona centrale o andiamo a prenderci anche la zona un po' più larga e questo chiaramente poi va a influire su quelli che sono i flussi di gioco se voglio sfruttare un flusso che parte dal basso verso l'alto laterale chiaramente se vado a scegliere un'ampiezza stretta è meglio quindi potrei scegliere stretta abbastanza stretta da come avete anche settato i disegni tatti quindi non c'è un solo valore utile ma sia abbastanza stretta sia la stretta possono essere meta in contesti differenti se invece voglio sfruttare più che altro i flussi centrali andrò più che altro su una abbastanza larga se voglio sfruttare invece sia quelli centrali sia quelli laterali mi andrò a mettere magari o sulla abbastanza larga o sulla standard in base poi alla mentalità che avrò scelto quindi tutte queste ampiezze sono assolutamente efficaci stretta abbastanza stretta standard è abbastanza larga però dipende dal contesto in cui vi trovate quello classico quest'anno è questo perché molti sfruttano più che altro i flussi laterali ma non significa che questo sia l'unico meta ripeto anche le altre in base a contesti differenti sono assolutamente meta e l'abbiamo dimostrato con tante tattiche quest'anno per quanto riguarda invece le altre istruzioni in questa fase di possesso non siamo sempre in meta ma possiamo diventarlo per esempio con il giocare la panna di spazi ricordiamo che questo è un acceleratore quindi tu hai già spinto tanto con la tattica vuoi spingere ancora di più e questo ti aiuta a spingere un altro po' chiaramente poi se vedi che la palla vai a perdere questa roba qua la togli perché spesso e volentieri questo esagerare in questa speed porta a creare sì tante situazioni ma magari non sono tutte ugualmente efficaci alcune magari diventano palle perse quindi state molto attenti può essere sicuramente molto utile in certi contesti ma non sempre e comunque portare il panno in aria è un deceleratore cioè l'opposto del giocare la panna negli spazi ricordiamo che questo però vale solo in tre quarti e mentre il sistema di gioco del giocatore della panna di spazi vale su tutto il terreno di gioco e non finisco qua perché chiaramente potrei persino utilizzare in combo queste due istruzioni perché questa magari mi velocizza un po' andando a buttare questo pallone in zone di campo dove ancora non ci sono i miei giocatori ma magari ci arriveranno appunto dati i ruoli che ho scelto attaccando diciamo in profondità ma allo stesso tempo mettendo questa una volta arrivata in tre quarti vado a rallentare tra l'altro anche è una strategia che ha utilizzato Miracle il vincitore del mondiale di football manager durante l'arco dei 90 minuti proprio andava a ritoccare questa gestione come vi ho sempre detto anche in passato che appunto si poteva utilizzare anche questa combo non la ritengo meta ovviamente però in certi momenti della partita perché no possiamo chiaramente cercare un bilanciamento anche in tal senso attenzione però perché abbiamo anche la sola posizione che è davvero molto efficace quest'anno e anche l'imbucata quindi questa spinta dal basso verso lato o nella zona centrale o in quella appunto laterale in questo caso della sovrapposizione questa roba qua tra l'altro può essere combinata anche con il concentrare sulla zona sinistra o destra ovviamente si può anche fare senza combinazione di imbucate o sovrapposizioni dipende chiaramente dal contesto in cui vi trovate di come state bilanciando la tattica ma sicuramente sono istruzioni meta in certi contesti questo è quello che io definirei meta insieme appunto al cross basso perché ormai dal 2019 diciamo è quello sicuramente più utile rispetto ad altri non come al solito che non possa funzionare anche un'altra tipologia di cross ma ripeto questo è sicuramente quello che possiamo considerare meta gli altri invece no per quanto riguarda invece la fase di transizione quello che funziona come meta è sicuramente pressing in tutto campo e contropiede attenzione a questa istruzione la vedo sfruttata abusata tante volte questa non è meta questa alle volte può persino creare problemi perché poi il portiere va a dare via questa palla troppo velocemente il difensore non è pronto e si subisce gol mentre io vi consiglio sempre di mettere il lancio alla bassa perché serve a non perdere i palloni ma questo lo spieghiamo dal 2019 mi raccomando lancio alla bassa va proprio a escudere che la palla va troppo lontano è il sistema chiaramente più sicuro tra virgolette perché più mi sposto su altri contesti come vedete più chiaramente rischio di buttarla più avanti possibile passando invece alla fase di non possesso ci sono istruzioni trasversali che funzionano a prescindere su FM24 e una di queste è per esempio il pressing alto cioè sbattuto al massimo come si fa da FM19 ad oggi anche se ci stavano delle tacche in più nei vecchi FM ma vabbè comunque è sempre la linea sbattuta al massimo per quanto riguarda invece la linea di difesa quest'anno funziona o sbatterla il più in alto possibile su molto più alta o per esempio una sola tacca più in basso su più alta per quanto riguarda il resto delle istruzioni impedire i passaggi corti del portiere soprattutto con più di una punta è sicuramente meta il pressing si potrebbe utilizzare anche questo ma in realtà il meta è sicuramente quest'altro tra l'altro si può andare persino oltre questa barretta l'abbiamo già fatto dire tante volte cioè prima la sposti chiaramente al centro poi vai sul singolo ruolo vai a mettere il più spesso come pressing sul singolo ruolo ritorni un'altra volta in un possesso e la vai a mettere qua come vedete diciamo ci sta un più pressing che resta qui ma non è qua perché tecnicamente non si potrebbe mettere ma appunto l'abbiamo messo tramite questo glitch che però non è solamente un glitch visivo è proprio efficace se lo fate su tutti i ruoli noterete che l'intensità si andrà ad alzare perché per l'appunto ha un effetto reale non è semplicemente appunto un glitch grafico quindi volendo si può andare persino oltre questo per determinare appunto come il pressing è veramente un elemento devastante su f24 ma lo era anche chiaramente nei vecchi fm attenzione attenzione anche all'anile di difesa perché questa può essere sicuramente considerata in alcuni contesti meta ma non è trasversale come quello che abbiamo già visto per tutti il resto delle istruzioni può essere efficace anche non andare a mettere nulla o andare a mettere più bassi questo dipende chiaramente da come volete andare a difendere non è una cosa fissa e comunque ma diventa meta nel caso in cui appunto quel disegno tattico prevede diciamo questo vantaggio ma ripeto non è trasversale trappole del pressing e gestione del cross si possono tranquillamente anche utilizzare non utilizzare sono inutili no anzi sono più efficaci rispetto al vd3 però ripeto non ti danno un vantaggio clamoroso bisogna anche saperli utilizzare se no è capace insomma che semmai sporchi un po' la tattica anziché andarla a migliorare quindi se non sapete diciamo dove andare a toccare evitate cambiamo adesso scenario ci troviamo agli ultimi 15 minuti di un match che vogliamo per forza vincere ma il nostro avversario sta spingendo tantissimo abbiamo un solo gol di vantaggio cosa facciamo? beh in questo caso cosa è utile fare come meta? andare ad abbassare di un pelino il ritmo io metterei un'attacca in meno rispetto a quella che avete di partenza quindi se vi trovate già in questo ritmo leggermente più alto scendete di un'attacca a standard il ragazzo che ha fatto il mondiale e l'ha vinto addirittura scendeva sempre fisso qui io francamente non lo farei se parto addirittura dal ritmo al massimo perché? perché chiaramente stiamo agendo tantissimo sull'abbassamento della familiarità che chiaramente risente di alcune istruzioni non tutte e quindi quando andiamo a toccare così tanto il ritmo perdiamo anche qualcos'altro cioè appunto la familiarità che abbiamo acquisito nel corso del tempo cosa che si può fare ancora in questi casi? beh perdere tempo mettere al massimo la parte di tempo in combinazione con un ritmo più basso andare a mettere anche i calci piazzati perché spezzano tantissimo il ritmo di gioco il ragazzo che ha vinto il mondiale li metteva di default non condivido questa scelta perché in realtà tu vai a perdere la possibilità di giocare palla a terra e se tu sei forte della tattica se tu magari sei anche la scuola più forte perché andare a limitarti? certo ci sono tanti gol che si fanno sulle palle inattive quindi se hai magari giocatori molto forti di testa hai giocatori molto forti magari anche sulla possibilità di andare direttamente al tiro su una punizione diretta ci può ancora ancora stare ma francamente io questa roba qua la metterei semplicemente quando devo preservare il risultato in fase di transizione cosa molto utile è anche rallentare il gioco tutto questo va ad abbassare anche l'intensità e quindi ci stanchiamo anche di meno e quindi il nostro avversario diciamo si beccherà attaccando come uno sesso diciamo questo svantaggio rispetto a noi che magari consumerà più velocemente la sua restante condizione fisica un'altra cosa che si può fare in fase di non possesso è abbassare un pochino la lunghezza della linea di difesa in questo caso ovviamente dipende anche da dove partivate io consiglierei sempre di abbassarla di una tacca però se l'avate messa così alta e volete portarla a standard ancora ancora ci sta non scenderei sotto comunque la standard quindi se partivate da qui io andrei qua o al massimo qua se partivate già da più alta andrete direttamente a standard scenario alternativo siamo adesso noi la squadra che sta sotto vogliamo per forza andare a recuperare in questo secondo tempo questo gol di svantaggio magari anche rimontare all'ultimo all'ultimo la partita cosa andiamo a toccare beh se partivamo con una mentalità equilibrata o positiva noi ci andiamo a spostare sulla offensiva quindi alziamo di almeno un'attacca se invece eravamo già in offensiva andremo su molto offensiva attenzione perché questo chiaramente andrà a cambiare un sacco di parametri e andiamo quindi anche a rompere un pochino la famiglia ecco perché vi dico non esagerate troppo nello spostamento della mentalità in fase di possesso quello che possiamo andare a fare e anche andare ad allungare un po' i passaggi soprattutto se siamo in mentalità molto offensiva perché rimaniamo comunque diciamo su uno stile meno rischioso chiaramente del diretto ma il poco più che diretto è un tipo di passaggio che ci porta subito dentro diciamo l'area avversaria in questo caso possiamo anche forzare magari i cross se abbiamo giocatori sulle fasce che hanno anche dei buoni valori per andare a mettere tanti palloni in aria io questo lo farei però se abbiamo almeno due punte o se abbiamo giocatori che veramente sono molto forti di testa anche magari il trequartista se utilizziamo una sola punta che può arrivare appunto al rimorchio e sfruttare questo cross anticipato altra soluzione potrebbe essere quella di andare al tiro da lontano però attenzione perché qua io la consiglierei più che alto se abbiamo in questo caso tanti cedrocampisti che sanno tirare da lontano o punte appunto anche brave nel tiro da lontano un cedrocampo folto qui è l'ideale perché in realtà questa istruzione si andrà ad applicare anche ad altri ruoli che magari sono che ne so il terzino e quindi dobbiamo cercare di massimizzare l'effetto e se abbiamo invece il cedrocampo folto è molto più probabile che al tiro ci vada il cedrocampista piuttosto che il terzino quindi cercate anche di scegliere una delle due in base al disegno tattico che ovviamente avete creato altra variante che utilizzava anche il ragazzo che poi ha vinto il mondiale è quello di andare a mettere una più creatività in combo però con i cross di prima attenzione però perché questo ve lo consiglierei al massimo se avete giocato con delle mentali molto buone ovviamente la libertà di inventare e la capacità di spostarsi in una posizione diversa da quella che chiaramente normalmente dovrebbe avere quel giocatore ma ci può stare perché magari se è molto forte appunto elementali saprà come sfruttare le sue capacità proprio per provare a ribaltare in extremis questa partita passiamo adesso al beef alla sfida quindi tra la tattica che vi andrò a presentare personalmente contro la tattica che è stata protagonista in questo mondiale di football manager abbiamo appunto utilizzato questo save del ragazzo che utilizzava appunto lo sporting questa è la tattica che utilizzava un 4-2-3-1 come vedete sono tutti i ruoli di cui abbiamo già parlato mentalità offensiva abbiamo una fase di possesso veramente molto spinta perché abbiamo anche il giocare a pane di spazi oltre a questa mentalità offensiva ecco perché lui ogni tanto rallentava con questa istruzione durante l'arco della gara il ritmo però non l'ha messo al massimo solo a tre quarti e attenzione questa è la fase di transizione questa è la fase di non possesso qui per esempio non condivido assolutamente questa combinazione del fate i contrasti aggressivi di squadra perché ripeto porta a tanti stanzioni disciplinari ma poi ne parleremo e soprattutto l'ha messa persino in combo con i contrasti più duri al terzino che è una zona veramente molto delicata quindi le due istruzioni si andavano a sommare è secondo me una scelta veramente folle però c'è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto lui sull'attaccante esterno ha messo il tenere palla quindi rallentava anche di più sull'attaccante esterno una mossa molto furba questa perché ovviamente ti permetteva in quelle parti dove l'avversario magari ti metteva un po' di difficoltà e tu sprecavi troppi palloni ti permetteva insomma di ragionare un po' di più cosa molto carina anche il discorso di marcare un ruolo specifico una cosa che francamente non utilizzo spesso ma devo dire che ci può stare bando alle ciance questo è il save che ho appena scaricato chiaramente dal sito che vi ho fatto vedere in precedenza vi faccio vedere lo stato partita è stata già salvata 18 volte questo diciamo è il save che ho scaricato non ho assolutamente fatto nessun salvataggio io lo potete anche diciamo verificare da voi scaricandolo ma vi metterò anche il link per scaricare appunto questo save iniziale ora andremo a simulare un'intera stagione fino alla fine di maggio con questa tattica e poi l'andremo a sfidare con una mia tattica e chiaramente salverò semplicemente all'ultimo dimostrandovi che poi diciamo c'è solamente un diciannovesimo salvataggio appunto un in più sia per me che per questa tattica davvero complimenti all'annata perché questo sporting ha fatto ben 90 punti 92 punti differenzialetti solo 26 gol subiti 118 gol fatti davvero uno spettacolo andiamo anche a vedere però cosa ha combinato nelle altre competizioni ha vinto l'Allianz Cup in Portogallo ci sono due coppe nazionali un po' come in Inghilterra nell'altra coppa invece è stato eliminato in semifinale contro il Porto mentre in Europa League è stato eliminato dal Liverpool molto sfortunato ha beccato una squadra davvero molto forte e quindi però andiamo anche a notare un aspetto perché ha affrontato il Liverpool appunto sì in semifinale dopo aver affrontato il Barcellona ai quarti però guardate cosa è successo qui a ritorno abbiamo l'espulsione di Gonzalo Ignazio e come vi dicevo ripeto mettere i contrasti duri ti può fregare proprio in quella partita magari che non devi sbagliare perché in questo caso lui sì stava sotto già di un gol ma l'andata era andata sul 2-2 quindi in parità poteva ancora magari recuperarla certo però insomma l'ha persa fuori casa e si sa che fuori casa insomma soprattutto nelle competizioni continentali si va più in difficoltà andiamo però anche a valutare come si è comportato a livello disciplinare per quanto riguarda le ammolizioni sono 81 mentre per quanto riguarda le espulsioni sono 6 quindi come vedete si è beccato 6 espulsioni e non sono poche in un'intera annata passiamo quindi al save del sottoscritto dove come potete notare al 31 maggio 2024 ho salvato una sola volta perché si iniziava dai 18 salvataggi del file scaricato appunto dal sito della FIFA andiamo a vedere con che tattica ho sfidato il ragazzo che ha vinto il mondiale di FM con chiaramente il 4-3 di Zidane anche noi si è vinto ovviamente il campionato ma attenzione lo si è fatto con qualche punto in meno solo 86 quindi abbiamo 4 punti in meno dovuti ai 2 pareggi che abbiamo fatto noi e non ha fatto l'altro ragazzo abbiamo anche subito qualche gol in più e ne abbiamo fatti soltanto però 2 in meno attenzione al momento sembrerebbe in vantaggio il 4-3-1 ma andiamo a controllare però cosa abbiamo fatto nelle competizioni abbiamo vinto l'Europa League ripeto io non ho giocato ho simulato con questa tattica esattamente come ho fatto con l'altra e abbiamo vinto contro il Liverpool 2-0 si vince anche l'Alliance Cup che però era stata vinta anche nell'atto save e si arriva persino in finale dell'altra Coppa Nazionale direi che abbiamo assolutamente vinto ma andiamo a controllare anche il discorso degli sfidanti perché oltre alla vittoria su Liverpool si è vinto anche mi sposto qua così vedete meglio oltre alla vittoria su Liverpool abbiamo anche battuto lo United in semifinale abbiamo battuto il Bayern Monaco ai quarti e abbiamo battuto anche il West Ham agli ottavi direi che è una difficoltà molto più alta tra l'altro rispetto a quella vista nel save precedente tra l'altro l'altra Coppa Nazionale l'abbiamo persa ai tempi supplementari 5-4 potevamo addirittura fare all-in ma andiamo a controllare anche il discorso delle sanzioni disciplinari ricordo che sulla tattica dell'osità non ci sta il fai contrasti aggressivi diciamo in fase di non possesso e qua abbiamo totalizzato qualcosa come zero espulsioni io mi sposto qui così vedete anche voi zero espulsioni l'altra tattica ne aveva fatte 6 per quanto riguarda le ammunizioni anche qui di meno 76 contro le 81 del save precedente ovviamente però qui contano anche le qualità degli interpreti più chiaramente una squadra è forte più potrebbe anche non prendersi troppe ammunizioni perché chiaramente i giocatori sono di maggiore qualità anche se ricordiamoci sempre che ovviamente la fallosità valore nascosto incide tantissimo sulle sanzioni disciplinari quindi al massimo quando mettete chiaramente un contrasto duro sul singolo perché ripeto io ve lo sconsiglierei di mettere di squadra quando si becca l'ammunizione andate magari a togliergli eventualmente il contrasto duro ma se proprio sapete che un giocatore ha un'alta fallosità prima di iniziare il match magari fate un discorso di istruzioni un po' diverse solo su di lui quindi sempre prendendo magari Yulmand come esempio andiamo su personalizzate anziché per posizione e andiamo a togliere i contrasti duri perché se tanto sappiamo che se ne becca sempre tantissimi e lui proprio è diverso rispetto agli altri perché c'ha quest'altra fallosità cosa facciamo? ogni volta che metteremo qualcun altro qui avrà effettivamente i contrasti duri perché per posizione ci sono ma quando ci sarà lo specifico giocatore che ha un'alta fallosità beh in quel caso ovviamente non ci saranno ovviamente la fallosità è un valore nascosto vi ho spiegato in quest'altro video dei pro e dei contro come si fa a dedurre il range di questa fallosità grazie al rapporto del nostro staff ciao